Roberta, cosa fai di bello nella vita? Infermiera professionale. E oltre a questo, immagino fai anche la sportiva, adesso che siamo su un centro... Sì, sì, mi piace giocare a pallone, ormai lo faccio da 20 anni, quindi... E a proposito di sport e benessere, hai delle esigenze alimentari particolari? Beh, sono diventata da qualche anno vegetariana, quindi... Quanti anni? Siamo a cinque anni, cinque anni che mangio, cerco di mangiare, che non mangio più carne, ma adesso in questo ultimo periodo mi sto proprio anche dedicando a degli studi sull'alimentazione, leggendo, mi sono appassionata del China Study, cose del genere, quindi cerco di effettivamente regolare la mia alimentazione anche su dei consigli di studiosi che hanno fatto, quindi di andare su questo versante, quindi eliminare i latticini, prediligere magari anche, ovviamente le verdure, tutto quanto, ma magari anche il biologico, anche se non c'è niente di dimostrato che il biologico possa far meglio di quello non biologico, però preferisco seguire questo tipo di alimentazione, quindi scegliere dei negozi appropriati. E nel momento in cui devi uscire fuori di casa, non so, per scegliere delle strutture alberghieri, piuttosto che dei ristoranti, non so se hai anche degli animali, piuttosto che quali sono le difficoltà che incontri per il tuo tipo di alimentazione, quindi? Allora, per quanto riguarda le strutture, tendenzialmente non scelgo mai gli alberghi perché ho due cani e sono due cani grossi, Charlie e Havana, quindi portarli negli alberghi faccio fatica perché tendono a prendere magari sì gli animali, ma quelli di piccola taglia, quindi tendenzialmente preferisco prendere gli appartamenti, magari anche supportarmi dai bed and breakfast che invece hanno dei loro appartamenti e tendenzialmente sono molto più disponibili verso chi ha gli animali, quindi mi è capitato di andare in Val d'Aosta e avere delle persone disponibilissime per i cani, quando gli ho detto anche le misure dei cani, mi ho detto no, no, non c'è nessun problema, quindi è stata molto carina come disponibilità. Lato cibo quindi? Lato cibo quando si va fuori è sempre un po' problematico, devi sempre scegliere qualche cosa che non abbia la carne all'interno del menù, se proprio non vuoi chiedere magari al cameriere se c'è qualche cosa dedicato. Sarebbe carino che effettivamente sul menù ci fosse una parte dedicata ai vegetariani e una cosa che secondo me manca è la garanzia sul fatto che preparino i piatti per i vegetariani non mischiandoli a quelli di carne, non so, anche una semplice grigliata di verdure, a me non piace che possa essere stata cotta dove è stata cotta la carne, vorrei avere delle garanzie in questo senso sinceramente. Ok, quindi comunque c'è un po' di fastidio di noia nel chiedere a un cameriere o comunque al ristoratore? Non so, sembra che fai un po' pubblicità, anche se la vorresti fare sinceramente perché vorrei che nessuno mangiasse carne, sinceramente, però sembra sempre di volerti far vedere che sei diversa, quando invece mi sento normalissima e vorrei soltanto proporre un'alimentazione sana, anche come infermiera preferisco che la gente sia bene, voglio dire. Beh, quasi però non lavoreresti più se ti stessero bene. No, no, si trova sempre da lavorare e poi anche perché amo gli animali e quindi vorrei che l'animale fosse trattato in maniera sacrosanta. Hai degli aneddoti particolari, non lo so, di quando dici che sei vegetariana o qualcosa da raccontarci, di cosa ti è successo? Ma no, tutto sommato trovo parecchia disponibilità in quel senso, non è che, piuttosto magari portare gli animali in qualche ristorante, devo dire la verità, quando vado giù in Calabria, che tendenzialmente vado in Calabria in vacanza, noto maggiore disponibilità a fare entrare gli animali nei ristoranti, forse perché ci sono anche ambienti all'aperto, cose del genere e forse trovi sempre qualcuno vicino di tavolo che potrebbe avere fastidio, anzi mi è successo, di che mi chiedessero di spostarci o se sono spostati loro, sta cosa effettivamente è un po' imbarazzante, quindi tendo di mio a prendere dei posti angolati in maniera di avere i cani nell'angolo, tutto qua, e la gente è molto il problema, non è il ristoratore o il cameriere. Ti ringrazio per la tua disponibilità, è stata gentilissima Roberta, ciao! Ciao!